Scusa John, no, tanto per saperlo, ma questa ditta che ci vuole soprallevare, da dove viene questa ditta di vestiti che ci vuole soprallevare? E poi quanti figli abbiamo fatto finora, perché dobbiamo dare tutto a 300 figli per fare una ditta di vestiti? E in quanto stiamo fallendo? Ah, 800, ah ok, ma i cinerini dobbiamo dare qualcosa? Ah, 1800. Per quando questo? Per l'anno prossimo. Allora, prima facciamo sì che il campionato inizia, dici tu giustamente Minan, e poi facciamo nascere la ditta, la beautiful chinesa, ok, ma questo figlio che è scomparso non si sa da dove venga, che squadra è? Ah, Juventino. No, allora mi dispiace, per i Juventini io non faccio nascere nessuna ditta, ok? Si vanno prendere loro i ditti da, dal loro presidente Lappo, ma io non faccio nascere nessuna ditta, ok? Arrivederci. No, aspetta, forse possiamo parlarne. Se facciamo un 50 e 50, ok? Però devo calcolare quanto sono quei cinesi, eh? Cosa? Anche la ritaglia, c'è di mezzo pure la ritaglia. Io devo partire per la Sicilia, mi raccomando, non fa anche una storia, eh? Cosa?